La sfida per dirigenti, atleti ed organizzazioni sportive è quella di mantenere pura la genuinità dello sport, di proteggerlo dalle manipolazioni e dallo sfruttamento commerciale, evitando che la gente, a causa della corruzione, perda fiducia nella verità dei risultati sportivi, allontanandosi da una partecipazione gioiosa e disinteressata. Con queste parole, Papa Francesco ha salutato in Aula Paolo VI in Vaticano i partecipanti all'incontro su sport e fede promosso dal Pontificio Consiglio della Cultura e dedicato al tema lo sport al servizio dell'umanità. Lo sport ci fa incontrare oltre le frontiere, ha proseguito il Pontefice, ci insegna a competere tra amici, a rispettarci consentendoci di imparare e lavorare in squadra, a saper vincere e anche a saper perdere. Per questo è importante che tutti possano partecipare alle attività sportive e che non cessino gli sforzi per far sì che lo sport diventi sempre più inclusivo. Penso anche a tanti bambini e ragazzi che vivono ai margini della società. Tutti conosciamo l'entusiasmo dei bambini che giocano con una palla sgonfia o fatta di stracci, di soborghi, di alcune grandi città o nelle vie dei piccoli paesi. Vorrei incoraggiare tutti a lavorare insieme affinché questi bambini possano accedere allo sport in condizioni dignitose, specialmente quelli che ne sono esclusi a causa della povertà. Grazie a tutti.